piccolo vlog ragazzi ip chat vlog che ho registrato io attenzione vlog inedito perché non è caricato su youtube grazie a Mario Draghi vlog di ieri della giornata di ieri e della giornata di oggi grazie Zanna un saluto al Calamaro siamo in macchina con i vangrieto stiamo andando a Roma stiamo andando per Roma perché abbiamo delle cose prettamente lavorative da svegliare un meeting importante a casa deieri devi girare ok dai fai questa piccola infrazione no non è un'infrazione è sti doppiarina infrazione infrazione da parte di i vangreco no 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 non è un'infrazione tutto è regolare siamo persone per bene il codice della strada c'è una bellissima giornata a Roma c'è troppa gente in giro ci dispiace constatare ciò poiché noi stiamo andando da un punto a un punto b per motivi prettamente lavorativi troviamo questi incompetenti che quanto deve andare io si sbrighi stai già schinnando e niente chi riconosce questa zona di Roma vince un sub nel canale di i vangrieto io mi ricordo che era col cazzo di fuori eh sì infatti la giornata ognuno guida come gli pare la giornata povero ricevere abbiamo un meeting importante lavorativo con gente di un certo livello e il video sta elaborando per cui è un po così per ora che ci sta facendo per dio gira levati dal cazzo strozzo nooo e che cazzo e andiamo niente occhio quanto veloce questa è la giornata ma non è veloce è la prospettiva è il grand'ango della chiusura e noi siamo più viewers quindi voi che vedrete questo video sarà lunedì ma speriamo che gli streamer domenicati facciano i numeri che riescono anche perché è chiuso ma la gente in giro non va bene devo guardare twitch anche la domenica soprattutto la domenica perché non ci siamo noi io ancora non ho capito che strada ci sta a far far sto cazzo grazie steppe mi sta riportando indietro ma non corriamo lo vedete quanto cioè stiamo andando normalissimo abbiamo un fan ha riconosciuto Ivan Grieco ammazza ammazza ed catcalling caia cosa c'è il ca questo quel parco lì è il parco salario non mi ricordo come si chiama è bello dove hanno ucciso il diabolik mi sa l'ultra della Lazio parco salario no si chiama il regi no non mi ricordo come si chiama villace villafara ma qua è la salaria vediamo se riusciamo a trovare le prostitute ma che cazzo di strada vabbè io lo so è un po' un orario strano non è un orario un po' strano ma c'è una bella giornata ma che cosa c'è dietro? è un orario strano per andare l'opera perché ogni volta che ci sei tu mi dice olio insufficiente al motore ma come cazzo te lo berrai tu una volta che c'è Andrea c'è un problema alla macchina porca troia vabbè ora siamo ritornati sulla tangenziale tangestiale tangestiale non lo so questo non c'era quando prima della pandemia questo mega building non c'era questo è un po' non è zona mia ma rientriamo un po' in borderline della mia zona romana qua sulla sinistra troviamo un parco per cani all'ombra dove si addestrano i cani eccola eccola l'ho prostituta ma no era un lavoratore non è ecco il famoso barco per cani qua tra poco c'è l'uble c'era il baby è un po' verso il portafoglio una notte ma si sembra che vada velocissimo Ivan no no un benzinaio sei andato ai 150 stiamo andando letteralmente piano qui ci sono i campi sportivi qua ci ho fatto baseball l'acqua cetosa guarda sti incompetenti qua che al possibile stare a casa vanno sui battini pensavo si vedesse di più giocavi a baseball? giocavo a baseball si un anno mi sono rotto i coglioni veramente uno sport noiosissimo hai fatto tipo michael jordan ti sei ritirato dal mondo del web per andare a giocare a baseball e poi sei tornato nel mondo del web no no giocavo a calcio in realtà giocavo a calcio in una squadra attenzione Ivan tra l'altro ero anche convocato ma non sono mai andato a giocare a calcio perchè per me la domenica è sacro mica faccio le partite di calcio stiamo ritornando a casa mia eh? ti hai cambiato l'accento a star lì senti come dice questa ultima cosa stiamo ritornando a casa mia tor di quinto siamo eccolo lì vediamo qua questi che non rispettano la legge le mascherine le mascherine qua c'era il circo orfei qua c'è un campo rom va dentro ci siamo non fammi vedere come ti manda hai messo casa tua e non casa mia? forse avevi messo casa mia? eccoci ragazzi siamo a Torre Maura con la produzione di 100% Ivan Greco e vediamo un po' ci porta un po' nel quartiere Borgataro possiamo dirlo così? si di Borgata di Borgata le mani 10 e 10 su volante Ivan questo non devo guidare a caponezzo tu vieni a farla spesa di solito no io vado all'Ipercop che sta un po' più di là ok è questa l'Ipercop è il segno all'Ipercop abbiamo qui dentro c'è questa Torre Maura diciamo la parte nuova la parte valsamata di là invece c'è la parte vecchia dall'altro lato della scuola e qua vedo che ci sono i famosi casi popolare eh si i famosi casi i famosi casi sono quasi arrivati ma è sponsorzato il 107 il 107 il 107 il 107 il 107 il 107 puoi entrare puoi entrare puoi entrare aspetta che guardo se questa mascherina è mia ah no non è mia sarà di qualche ragazza che ha portato Ivan andiamo alfa romeo alfa romeo un mezzo stabile station 107 il celebre si si cos'è una mito station 107 in chat vabbè qui si vede la targa vado avanti grazie per atto scherzo ma un parte la live ma meno male cos'è anche amantare niente home tour no questo è grello l'home tour lo farà vedere lui nella sua live la finita gli optic gaming vincono e allora urliamolo al cielo di quest'arena di merda gli optic gaming volano in finale di winner Wraghet parca madonna è così e e e ma facciamola vedere questa casa questa casa ma poi non ha internet e try to reconnect ti stai dicendo ma non prende qua dentro grazie frassi no ci ha finito il titolo ci ha finito il titolo ci ha finito il titolo che lo devi fare c'è un privetitore qua dietro cos'è l'entrata di cano divan guarda di internet questo pulso ma è abusivo guarda qua guarda qua è abusivo ha costruito lui la casa si è fai il contatore è stato bloccato l'accesso sull'ultimissimo piano e la c'è una stanza segreta guarda qua scambiamo la casa di il vlog di ivan guarda qua guarda qua dove abita non si sa l'oscurità pare Minecraft oh gigante guarda che il ponte sta scambiando degli anni fa molto inglese tu dici guarda io sono andato prima lì tu lo sai che c'è lì il fondo sulla sinistra che c'è? eh mi intimitate mani grazie un piano ammezzato abusivo un piano ammezzato abusivo? un piano ammezzato abusivo? esattamente esattamente c'è la Minecraft diventato tutto ma ci sono i disegni dei bambini precedentemente le scavate delle scavallate sembra la casa di Nate Flanders quando gli ha costruito diventa sempre più piccolo non l'ho visto ma perché? non è una camera dei mafiosi ragazzi mamma mia si sembra le scavate di Minecraft dov'è che porta? è una stanza di bambini ah là c'aveva ragione ho detto la stessa cosa ah questo è bello bello il patio posso far vedere i palazzi? no non so se i palazzi non si offendono no non credo magari sgavano la via bel patio bel patio eh bravo Ivan eh guarda che bello il Colosseo guarda quello è il Vesuvio dei Napoli mi dice tutte le teste di Ivan al posto dei palazzi qua qua questo è? ah eccolo schifo bello grazie 21 vabbè grazie anche a nessuno questo è il classico cinque giri è come è possibile che non gli prende internet? non lo so è lì a dieci metri oh mister flame senza maschera no salute c'ho gli occhi molto stanchi no no niente Ivan ti hanno scammato internet non mi sembra vero grazie fracchiaro con me mettiti là che così fai bello casa tua sei contento? vince grazie Cristante grazie ai corsi te dai per farvi i soldi per la differenza no grazie così vabbè e qua siamo un attimo eh vabbè tappò vengo pure un pacca là Ma hai visto Gomorra? Anche io. L'ho visto ma poi mi sono annoiato. Però c'è bastato gli schianto che cantavano. E poi faccio vedere che non ho il braccialetto elettronico. Ma così, però è puro flexing. Sti cagni hanno rotto il cazzo, sono da sopprimere Ivan. No, no. No, no. No, no. Bell tappetino. No, andare al bar a comprare dell'acqua, sì. Sì. Allora, su idea di Mr. Flame. Grazie Silvio. Se il mondo fosse un angolo di cielo, mangerà la mela del peccato. Cioè io dico 200 macchine, c'è stanna la mia. Guarda che fortuna. Forta fortuna. La merda bacia i belli. Ti porterà tanta fortuna quest'opera d'arte, Rubino. Ma poi quanta merda. Un bellicano sarà stato. Ma che cazzo è? Un bel bellicano. Vai Rubì, ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi per testimoniare la zona rossa a Roma, il Parco degli Acquedotti. Anche conosciuto come Parco di San Policarpo che alle spalle di Andrea c'è la chiesa. Come vedete tutti rispettano le norme anti-Covid. C'è nessuno oggi al Parco e sono tutti a casa. A Milano non si potrebbe fare una cosa del genere. Libertà. Ricordatevi come dice il professor Sgarbi. All'aria aperta è il virus. All'aria aperta è il virus. All'aria aperta è il virus. Grazie Isacco. Giusto signora. E ora passiamo sotto questo arco. L'arco del bionco. L'arco del Covid. Sai come si dice in Piemontese? Qui siamo in Piemontese. La zona Covid free come si dice. Il merlo che dice cadizzo al curnaia si parte come Cessner. E questa è l'isola dei mangiatori dei fiori di loto. Ovviamente siamo qua per documentare la situazione se no non saremmo venuti. Scopo lavorativo. E ora ci stiamo posizionando lì per avere una visione massima. A Roma giustamente ha la visione massima. E anche tu. Grazie Samara. Eccoci in stazione. Grazie Arci. Grazie Ciccio. Grazie Ciccio. Grazie Caminandi di Roma. Schiaile mobili molto alte molto tranquille direi a livello vista treni. Il mio treno e partito. Salse. Stanno sicuri?. No, ok, non l'ho perso Eh beh, non l'ho perso, facevo delle gags, ci sono dei vlog dietro le quinte Internoff La linea gialla? Eh, non c'era nessuno comunque Questa vita distrugge, signore Che riprese Un po' più a favore di camera E anche per YouTube? Grazie Pippo Baudo Mi ha detto che non potevo arrivare alla polizia Arrivata la polizia Grazie Pippo Baudone Un po' più a favore di camera E anche per YouTube? Arrivata la polizia Me l'ho io Potrebbe essere una cover del video di Surria E ho aspettato che arrivasse il treno così saliva al volo e oppa Alla amici miei Vai contro la sicurezza nazionale Grazie Silvia Prima classe Lei viaggia da lord Prima classe Beh, saremo che dicevi così Che sto saluto Let's get it boys Vonti nel gang Gang, 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 gang Prima classe gang Guardate come sono bello Su TikTok Mi trovate mezzo nudo Omiatolsk Io e la mia band di amici Sempre nudi Muscoli Oli Piccolo ADV Per una crema di pistacchio Che si spalma sul pene Saino viola di Twitch Poggers Instagram Chabau Beh, Napoli Il treno fermerà a Firenze-Santa Maria Novella Bologna-AV Reggio Emilia-AV Mediopadana Milano Centrale Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato E a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici Nel rispetto degli altri viaggiatori Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovesti di biglietto valido A farlo presente per investimento Al train manager Per poter proseguire il viaggio Vi ricordiamo che a bordo di Italo è detato Fumari Il biglieto vale anche per i di su I dispositivi elettronici di quali vapore Come le normali sigarette E l'erogazione del pianeta del pianeta Anche nei bagni Grazie a te Raggiunani Napoli Centrale in su Milano Centrale Sant'Anna e Nogena Bologna-AV Reggio Emilia-AV Mediopadana Milano Centrale Grazie a chi non ti sa? Quasi un diretto dai Passaggers Passaggers Non è possibile La scuola La scuola La scuola In cui vapore? La scuola La scuola La scuola La scuola Questa felpa Sono arrivato oggi Non mi rompete dai E ora è finito tanto Ora però sorpresone eh Sorpresone eh Vabbè Basta, ciao La quantità di viaggio comparata all'effettivo content è simile a quella del masseo, come ratio What? Cricket? 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 Ho visto una partita di cricket! Ho giocato a cricket! Con i Bangladesh, con i ragazzi del Bangladesh Non sto capendo molto Poco fa, oggi pomeriggio ho giocato al cricket! Cricket? Questa era la sorpresa! Questa è la sorpresa! Io che vi faccio vedere il video del cricket, questa era la sorpresa! Cricket? 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 Se salti scop Rangers Il vlog finisce qua ragazzi l'ho fatto un po' più lungo così ma non era un vlog mirato a determinate cose erano più un vlog vi faccio vedere cosa cosa succede quel video Poi abbiamo Prisma Marina Galvazra Pignano Costa McHenry Avastandandit Sianisi Sable